Certo Antonio, non ti ho documentato un cacchio eh. Antonio, i Z5 ecco Boston Lima e Italia 5 Oscar Yankee Fox, all'opera smontaggio della Steppajar, è bella lunga, è bella alta, guardate qua che lavori, siamo immersi nella natura in Garfagnana region c'è, aspetta, c'è un mazzolo, vedi un mazzolo dentro la seta grossa, mazzolo dentro, andiamo a vedere, ributtalo dentro, no, ributtalo dentro, e si riga, e che si riga e che ti fa una siga, ma che si riga e non si vede nulla, è che fuori asse, rimettelo dentro